La giornata di oggi è una giornata di presentazione dei risultati fin cui raggiunti di un progetto europeo, finanziatore europea nell'ambito del Leonardo da Vinci. Il progetto si chiama Ruraliter ed ha lo scopo di costruire una piattaforma formativa rivolta a giovani, donne e agricoltori di ritorno su temi che variano dall'agricoltura biologica alla trasformazione e vendita diretta, agriturismo, multifunzionalità, quindi temi che sono stati considerati temi prioritari nello sviluppo di nuove imprese. Questo è un progetto che prevede una partnership con alcuni partner europei che sono in Portogallo, in Grecia, in Italia e una partnership importante rappresentata anche dalla SECIA che è il Consiglio europeo dei giovani agricoltori. Oggi abbiamo presentato proprio la possibilità di poter fruire di questa piattaforma attraverso internet o attraverso il sito di Agricoltura e Vita www.agricolturavita.it e cliccando sull'icona Ruraliter. La piattaforma è un insieme di elementi strutturati che partono da un test introduttivo, quindi un test di introduzione alla piattaforma stessa e sei moduli formativi che sono fruibili online o offline. Questi moduli prevedono al loro interno degli step di autoverifica attraverso domande e risposte e il completamento di questo percorso avvicina a quelle competenze che sono state definite dal European Qualification Framework su specifici ambiti delle competenze agricole. Chi può accedere? In questo momento può accedere chiunque si registri a questo portale. Noi non abbiamo nessun filtro e quindi è un portale assolutamente libero e fruibile direttamente dagli utenti finali che ci aspettiamo a essere soprattutto giovani, soprattutto donne, imprenditrici e soprattutto soggetti interessati ad essere agricoltori di ritorno.